La prego faccia in modo che la regione Lazio per i suoi residenti dia un bonus, un incentivo per l'acquisto degli airbag, quei giubbotti che si gonfiano e salvano la vita dei motociclisti. Roma è la prima capitale europea per numero di moto e proprio nelle capitali, nei centri urbani succedono la maggior parte degli incidenti. I weekend, lo sappiamo, sono un'ecatombe, adesso si apre la bella stagione. Purtroppo è l'incidente stradale che porta via la prima causa di morte per le persone sotto i 35 anni. Insomma, i nostri giovani, la prego, teniamoci dei vicini. Le assicuro che è molto, molto brutto che ci rimanga non solo di nostro figlio dei ceneri. La prego, glielo dico con tutto il cuore. Eviti che succeda questo o altre famiglie. Io so cosa significa. La mia Elena è morta così. Grazie di cuore. Spero che non deluda me e soprattutto, cosa più importante, che non debbano piangere altri genitori per per una cosa di questo genere.